In Accademia abbiamo portato un menù, tre portate, io ho portato un salmerino come antipasto. Lei si chiama Francesca Guiducci, ha 26 anni, fanese doc e al pallino della cucina. In famiglia dove oltre ai genitori vive con due sorelle di cui una gemella e un fratello, ai fornelli comanda lei. Una passione nata sin da giovanissima, tanto da scegliere di frequentare l'istituto alberghiero subito dopo la terza media. E siccome in cucina non si finisce mai di imparare, Francesca un anno fa si è iscritta ad una delle accademie più prestigiose d'Europa, l'Alma di Parma, fondata dallo chef Gualtiero Marchesi, dove si è diplomata insieme ad altri 77 cuochi professionisti, tra cui anche un altro marchigiano, Francesco Pettorossi, di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, premiato come miglior allievo della scuola. In questo momento preferirei più di tutto approfondire la pasticceria e la panificazione, che sono campi che mi interessano particolarmente e che nella ristorazione non è sempre facile approfondire, quindi concentrarmi di più in questo ramo qua. E nel menù di Francesca non può mancare il pesce. Il pesce mi piace tantissimo, pulire il pesce è una bella soddisfazione, vedere il pesce al mercato pulirlo mi sento proprio che mi illumino, mi piace molto. Finita l'Accademia, per Francesca c'è già pronto un posto da professionista in una cucina di un ristorante non molto lontano da casa, ma se le chiedete se le piacerebbe partecipare ad una edizione di Masterchef, ecco qual è la sua risposta. No, grazie.